5.90 Sì è dedicato alla gara di 1.100 pelabettica ad un gioco cistano ad un'ocentra di 3 batte над Giulia Devin in Pizzone Nicole Coppa con la campanica Federica Don D'Fozzi Cazzo Luciade Francesca Ponelli di Artifica Cent Gereska Puccio della DC progetto di Juvix la retinanina è dedicato ad un gioco l'ultima livello col frutta l'altenda con la Bandello e le vediamo a passare Giulia Brevini della Pizzonna e davanti a tutti Baila Grazie a tutti. 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 Brava. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.